benvenuti a nome di WeBank io sono Alan Vincenzo Gendusa e oggi giovedì 5 maggio 2022 abbiamo questo webinar short istituzionali è possibile identificare il target e quando parliamo di short istituzionali ovviamente parliamo con Fabio Bollis eccolo qua ciao Fabio e bentrovato ciao Alan e buongiorno a tutti gli amici di WeBank allora Fabio con te abbiamo fatto un ciclo di webinar veramente molto molto interessante per chi vuole imparare a capire che cosa sono gli short istituzionali e soprattutto a imparare a gestire questo tipo di informazioni per il proprio trading quindi invito tutti coloro che hanno interesse su questo argomento di andare a rivedere tutte le puntate precedenti dove veramente Fabio ha spiegato per file per segno come reperire le informazioni come utilizzarle oggi di che cosa parliamo di preciso sì oggi andremo a vedere un attimino quali sono i possibili target in particolare quello che succede spesso è che magari quando vediamo che ci sono dei titoli che sono shortati cerchiamo sempre di individuare una resistenza un supporto un qualcosa poi per iniziare o per chiudere una posizione ecco cercheremo di capire come unire analisi grafica analisi degli short per individuare un target e soprattutto per capire se possiamo e se è giusto farlo perfetto quindi un webinar che ha un'implicazione operativa molto importante come al solito faccio vedere la pagina degli esperti perché il nostro disclaimer vi riporta vi invita a vedere la pagina degli esperti che trovate su webank.it dove trovate tutti i nostri relatori e ovviamente trovate anche Fabio Bollis prendete visione del suo background formativo e professionale della metodologia operativa avete anche il curriculum vitae avete i recapiti aiutotrading.info e la pagina facebook relativa e qua sotto molto importante trovate la playlist con tutte le puntate precedenti mi raccomando lo dico veramente perché reputo che sia una cosa molto importante conoscere gli short istituzionali è un'informazione molto importante qualsiasi trader a mio avviso dovrebbe imparare a reperirla e a elaborarla poi in base a quelle che sono poi le proprie tipologie di trading vi faccio vedere i recapiti perché se avete delle domande in diretta potete utilizzare la chat di youtube oppure whatsapp al 347 28 03 056 quindi 347 28 03 056 per tutte le altre domande indifferita sapete che poi questo webinar sarà registrato quindi ve lo potete rivedere quante volte volete potete contattarmi ad alanvincenzo.gendusachiocciolapromotori.bancobpm.it qui sotto infine trovate il codice promotore pf 52 118 questo è un codice fondamentale se volete diventare clienti webank perché è un codice fondamentale perché con questo codice otterrete due vantaggi esclusivi esclusivi vuol dire che i clienti standard diciamo non hanno di solito questo tipo di vantaggi mentre inserendo questo codice ce l'avrete quali sono questi vantaggi il primo è l'assistenza gratuita diretta all'interno del trading team della banca e in particolare ce l'avrete con me questo è il servizio principale è un servizio di eccellenza totalmente gratuito che vi fornisce la banca in cosa consiste consiste nel poter contattare me in questo caso direttamente oltre a tutti i canali di accesso alla banca quindi avete un canale preferenziale che per chi fa trading è fondamentale e parlate poi chiaramente con me quindi con un esperto trading qualsiasi siano le vostre problematiche o le vostre esigenze troverete sicuramente una risposta e poi con questo servizio si staura anche un rapporto molto più stretto con la clientela una cosa di cui noi chiaramente andiamo fieri secondo vantaggio è che contattandomi prima di fare la richiesta di apertura conto online oppure contattandomi dopo ma avendo messo il codice promotore pf 52 118 otterrete delle condizioni vantaggiose soprattutto all'inizio del vostro rapporto con la banca come si inserisce questo codice andate su webank.it apri conto e nella prima pagina oltre ai vostri dati vi chiederà il codice promotore pf 52 118 per tutti i dettagli vi invito a contattarmi allora Fabio possiamo partire con l'analisi degli short se riesci a mettere la telecamera un po' ok meglio così benissimo perché perché siamo in un contesto di guerra un contesto molto particolare quindi un contesto anche tra virgolette di crisi economica post pandemia perché crisi economica perché comunque la ripresa che c'è stata dopo la pandemia comunque nasconde delle determinate insidie e capire che cosa fanno fatto e che cosa stanno facendo gli istituzionali cioè i grandi fondi di investimento gli edge found sul nostro mercato in particolare è di fondamentale importanza quindi quando vuoi possiamo partire col webinar di oggi sì allora innanzitutto comincio a condividere lo schermo ditemi se lo vedete così almeno perfetto possiamo iniziare perfetto allora innanzitutto benissimo come dici tu è proprio questa la situazione cioè arriviamo da una serie di altro che pecore nere insomma ce ne sono state veramente anzi scusa di cigni neri sono state veramente tantissimi di cigni neri insomma qui abbiamo avuto prima il covid poi il bello di uscire dal covid appunto è arrivata la situazione della guerra e quindi è veramente una situazione molto interessante lato short perché ci si poteva aspettare che diciamo così la situazione continuasse ad andare verso il peggio perché perché sappiamo tutte quali sono le varie difficoltà che ci sono la questione dell'inflazione la questione dei tasti interesse e così via insomma quindi capire in base a come stanno andando i mercati in base a come stanno andando poi l'economia reale come si stanno muovendo gli istituzionali a volte aiuta a risolvere un attimino il rebus su quale dei due tasti schiacciare quando dobbiamo fare un investimento se andare appunto long o andare short bene fatta questa piccolissima premessa iniziamo col classico recap che facciamo per chi magari veramente agli inizi ricordiamo cosa significa andare short su un titolo significa che andiamo ad investire al ribasso quindi guadagniamo se il prezzo diminuisce quindi vendiamo qualcosa a 10 euro ricompriamo ad esempio quando quel titolo vale 8 euro il gain è 2 euro ok mentre invece tipicamente se pensati soprattutto per chi è più neofita se pensati si pensa solamente di andare al rialzo ecco si può andare al ribasso ovviamente i fondi istituzionali possono farlo e quando lo fanno rischiano di diventare qualcosa che veramente poi va a muovere il titolo soprattutto poi se il titolo non è così liquido o così capitalizzato come vedremo poi nel corso del webinar c'è di bello che almeno per quanto riguarda il mercato italiano questa informazione ci viene data da consob quindi meglio di così insomma un'informazione più ufficiale di così non si può avere la sia un giorno dopo ma come abbiamo già detto sempre non è un problema e punto basta andare a vedere uno degli webinar che abbiamo già fatto e magari in uno dei prossimi webinar rifaremo un attimino anche questa operazione più manuale ecco andando a prendere il file da consob si capisce qual è la posizione agli istituzionali sui vari titoli quali sono stati i movimenti appunto come ci sono sempre detti la situazione diventa molto interessante quando abbiamo non solamente un fondo esposto ma ne abbiamo di più e poi abbiamo imparato nel corso di questi anni a fare diversi ragionamenti a questo punto possiamo proseguire perché appunto come abbiamo visto l'ultima volta ormai diversi anni che facciamo questi webinar questi incontri e siamo riusciti più o meno a vedere tutte le situazioni quello che dicevamo è che ci manca la situazione che ci manca è questa cioè quella in cui abbiamo un livello di short definito normale su un mercato ribassista ed è proprio quello che stiamo cercando di vedere in questo periodo perché abbiamo visto più o meno già una situazione in cui avevamo degli short molto alti e un mercato che era ribassista la situazione al secondo semestre 2019 short alti e mercato ribassista secondo semestre 2018 short che abbiamo definito più o meno normali quando stanno attorno diciamo al 50 a 40 somma di short totali sul nostro indice e mercato ribassista la situazione che abbiamo visto più o meno per tutto il 2021 soprattutto un quello che avevamo definito vi ricordate il famoso draggy squeeze che poi ci ha praticamente garantito una salita per quasi un anno abbondante direi e appunto adesso c'era una situazione in cui il mercato cominciava ad aver finito la benzina e in cui volevamo vedere un attimino se c'era forza ribassista e come eventualmente si sarebbero comportati gli istituzionali per vedere se potevano influire andando a spingere ancora di più al ribasso il nostro indice bene questo è il grafico del nostro indice sempre un grafico settimanale vi ricordiamo che appunto in questa scusate in questa sezione qua sulla sinistra in questa tabella vedete il totale degli short sul nostro indice insieme alla data definiamo bene come sempre questo totale degli short è quel valore che voi avete sommando tutti gli short che sono presenti sul nostro indice banalmente scaricate il file di concept fate la somma di tutti gli short quando parlo di totale degli short intendo questo ok è come abbiamo sempre detto una misura che non va intesa come precise puntuale al cento per cento perché shortare un titolo molto diciamo così pesante sull'indice ovviamente non è come shortare un titolo che invece è più leggero meno capitalizzato ok però ci dà un po' quell'indicazione che ci fa vedere un attimino come si stanno muovendo gli istituzionali sull'interesse del nostro indice tanto è vero che appunto vedete come questo valore poi cambia nel corso degli anni e a inizio scusate a metà 2019 il valore totale era di un 88 e 53 per cento vedete poi col passare degli anni come questo valore si è sempre ridotto fino ad arrivare all'ultimo webinar che abbiamo fatto in cui il nostro mercato era in questa situazione avevamo un 48 e 46 per cento e guardate bene dove siamo oggi cioè qui su questa freccettina gialla abbiamo addirittura un 42 e 42 per cento di short totale sul nostro indice e a questo punto vi invito prima di tutto a fare un primo tipo di confronto cioè questo 42 addirittura meno della metà del totale degli short che avevamo a metà 2019 questo per farvi capire come la situazione sia veramente cambiata punto numero uno punto numero due siamo dei livelli così bassi di short nonostante come vedete il nostro indice abbia esaurito in questa fase la spinta rialzista stavamo facendo il primo fondo ribassista beh se volevamo continuare in questa fase di ribasso non c'era niente di meglio che cominciare a caricare gli short esattamente in questa sezione vedete perché il nostro indice alla fine cos'è che ha fatto si è fatto il bel rimbalzo se noi qua tracciamo la linea ovviamente siamo arrivati più o meno in questa zona se vogliamo dovessimo far partire veramente un ribasso molto pesante ovviamente più o meno in questa zona che vanno caricati gli short quindi mi sarei aspettato in caso di mercato fortemente ribassista nel caso in cui fossero proprio gli istituzionali a spingere diciamo così al ribasso le quotazioni proprio qui mi sarei aspettato quindi non avrei dovuto vedere questo tipo di configurazione avrei dovuto vedere un qualcosa che ci portava al totale degli short immagino a un 60 almeno 60 65 e poi magari più diciamo così si vedevano i segnali ribassisti e più avrei dovuto vedere ulteriori incrementi soprattutto magari andando a diciamo così prendere di mira titoli che magari sono un po più capitalizzati ok mentre invece vedremo che tra i titoli molto shortati non ci sono poi questi queste grandissime capitalizzazioni quindi questo è già il secondo elemento terzo ed ultimo elemento che mi permetto di farvi notare è il fatto proprio appunto di come siano cambiate le situazioni nel corso di questo ultimo mese quindi tentativo ribassista che ha fatto segnare dei minimi qui ok ma nel frattempo comunque sia come ci siamo detti non sono aumentate gli short quindi non abbiamo incrementi di short ed effettivamente guardate proprio graficamente che non ci sono poi questi grandissimi segnali ribassisti perché appunto se noi ci immaginiamo che da qui dovesse partire poi un'altra gamba ribassista beh queste due candele con queste due candele settimanali con queste shadow basse così pronunciate non è che sappiano moltissimo di ribasso ecco questo a livello generale vuol dire che quindi il mondo istituzionale quindi dei grossi fondi di investimento degli edge funds non percepiscono la situazione odierna come una situazione per andare short quindi è molto importante questo cioè le paure che noi abbiamo in questo momento con la guerra in ucraina con l'inflazione non accompagnata da una crescita economica importante non spaventa gli istituzionali esatto direi che è il buon riassunto di quello che sta succedendo perché altrimenti veramente abbiamo visto gli istituzionali caricare fortemente appunto magari in questi periodi andare short pesantemente sui sui titoli quindi diciamo che quando vogliono caricano tranquillamente ecco vedere che non stanno caricando vedere al contempo delle candele settimanali che non sono poi così brutte e ricordate questo grafico se non ricordo male l'ho preso ieri sera tra l'altro prima che arrivassero i dati il dato sulla della fed di ieri che ha poi spinto al rialzo e appunto questa mattina prima organizzazione webinar addirittura leggevamo tra l'uno e mezzo il due per cento di gain e insomma questo poi dà un ulteriore spinta rialzista ecco vediamo un po come si chiude la giornata e soprattutto come si chiude la settimana però questi che queste grandissime indicazioni short non non si vedono almeno per quanto riguarda la situazione degli short istituzionali e appunto anche graficamente ricordiamo anche che nella tabella che hai fatto vedere lì a sinistra no nel secondo semestre del del 2019 no dove hanno continuato comunque a incrementare gli short poi chiaramente nel 2020 abbiamo avuto un crollo importante no causato dalla pandemia ma chiaramente un crollo importante che ha portato sicuramente in gain grandissime posizioni aperte precedentemente dagli istituzionali poi la riduzione che abbiamo avuto né a novembre del 2020 e 20 ha portato ad una crescita dei mercati quindi di pari passo vedete che tutte le informazioni che derivano da questa che è una somma diciamo delle posizioni short complessive sul nostro mercato poi effettivamente ha portato il mercato a muoversi di conseguenza non è un caso ecco che il mercato poi si muova nella direzione tra virgolette degli istituzionali ecco esatto e anche se abbiamo trattato singoli casi dove invece il mercato va contro e abbiamo fatto vedere delle puntate sullo short squeeze quindi in particolare però diciamo che in linea generale funziona così esattamente ed è proprio un'informazione che ci viene molto utile quando ci sono quei periodi che fanno un po' tremare i polsi ok prendiamo ad esempio appunto questa fase forte di discesa ok quando noi rivediamo queste settimane di salita come facciamo ad avere un elemento in più che sia poi anche abbastanza oggettivo per capire se si tratta solamente di rimbalzo o se diciamo così dietro le quinte si sta muovendo per poi ricominciare una fase molto pesante di ribasso ecco gli short istituzionali ci danno questo tipo di possibilità perché indipendentemente da quello che vedo graficamente il dietro le quinte degli attori importanti sono poi questi sono gli short istituzionali perché se veramente vogliono calcare la mano non possono nascondersi cioè l'informazione lì ci deve essere ok abbiamo visto altri titoli ne vedremo qualcuno anche oggi in cui gli istituzionali possono essere diciamo così bravi a nascondersi e muovere anche alcuni titoli ma se vogliono muovere l'indice e se vogliono muovere titoli pesanti che sono poi quelli che vanno mossi per muovere l'indice non possono nascondere questa informazione a consul questa informazione deve per forza saltare fuori da questi da questi dati quindi è veramente importante ci dà quel po' di oggettività in più che poi ci permette di stare un attimino più tranquilli mentre fuori c'è la bufera ecco perfetto che a questo punto direi che possiamo proseguire e andare a vedere un altro grafico che è quello che riassume un attimino quello che è successo appunto in questi anni anche quello che dicevi tu prima l'abbiamo già visto in passato questo è un indicatore che ho costruito e che praticamente va a pesare la situazione totale degli short quindi sempre con la somma di cui parlavamo prima andandola a pesarla in base a quanto una situazione rimane stabile oppure gli short vengono incrementati o decrementati come leggere questo scusate come leggere questa e questo indicatore più il valore è alto più significa che gli short stanno incrementando o sono mantenuti stabili più ci abbassiamo più significa che gli short vengono diminuiti ok e questo viene fatto su ogni posizione short aperta ok su ogni posizione short aperta che noi vediamo sul file di console questo indicatore va a pesare e a chiedersi ok ma rispetto a prima è la situazione peggiorata o migliorata ecco unendo questi dati nasce questo tipo di indicatore e cosa vediamo vediamo che il periodo peggiore è proprio quando è quel 2019 che ci siamo detti prima no vedete con la situazione a metà 2019 siamo praticamente qui vedete che viaggiavamo a livelli molto alti c'è poi tutta questa fase di sostanziali di scese degli short che ci porta fino a diciamo così prima fase del 2021 poi pian piano cominciano ad aumentare ma vedete che sostanzialmente noi da più o meno dalla tre quarti del 2021 fino ad oggi rimaniamo stabili ok quindi guerra o non guerra situazione del covid che sta migliorando peggiorando bene o male a livello dei short sempre li stiamo e addirittura vedete che poi stiamo magari nella fase un pochettino più bassa un po come i dati che uscivano prima ecco però diciamo così quello che mi interessa farvi vedere questo grafico è un po come se potessimo diciamo così dividerlo in tre in tre fette ok questo grafico vedete proprio in questo modo cioè quando siamo più o meno in questa zona significa la situazione di short sta peggiorando di molto quando siamo più o meno in questa fase significa la situazione di short è stabile quando scendiamo sotto questa zona significa che in quelle settimane ci sono molti decrementi se ci sono molti decrementi significa che molti istituzionali stanno correndo a ridurre o a chiudere le posizioni short quindi vedete che appunto guerra covid roba varia siamo in una situazione che definirei normale se la situazione è normale allora quella che possiamo dare ancora più peso magari all'analisi grafica e appunto quelle belle candele settimanali che abbiamo visto prima con quella shadow bassa che magari ci danno quello spunto in più rialzista perfetto ok a questo punto dopo aver visto questa ulteriore situazione a livello generale andiamo a vedere quali sono i cinque titoli più shortati e vedete che come sempre abbiamo all'inizio site è un po come parlavamo prima in inizio il webinar con con la situazione è molto particolare perché nonostante appunto il prezzo del petrolio continui a salire nonostante qualsiasi tentativo di affondo ribassista poi venga negato nel giro di pochissimi giorni perché arriva la news che sostanzialmente riporta in alto le quotazioni vedete che per quanto riguarda il titolo sai non c'è verso gli short li abbiamo presi all'incirca al 4 5 per cento qualche mese fa lì sono rimasti quindi il prezzo del petrolio non prezzo del petrolio aumento di capitale non aumento del capitale sempre lì è rimasto ed effettivamente vediamo poi prima facciamo caso col grafico appena cercato di mettere la testa sopra l'1 20 vedete che poi c'è stato quel candelone rosso di inversione che sostanzialmente ha perlomeno rimandato al mittente quel tentativo di rialzo e come dicevo appunto prima secondo me non sarei tranquillo di entrare long su saipem finché almeno almeno non vedo scendere gli short sotto un 3 per cento tranquillità non andare long diciamo così non ce la metterei mai al 100 per cento ma anche quel tentativo di schiacciare buy per tenerlo qualche settimana almeno finché non è sotto il 3 per cento anche volendo essere molto speculativi non lo proverei ovviamente l'ideale sarebbe che nel frattempo gli short venissero ridotte addirittura arrivando all'1 per cento immaginiamolo che le quotazioni rimanessero in quel range abbastanza basso e allora lì magari veramente ci lascierebbe il tempo per magari splittando la nostra posizione long in diverse settimane in modo da mediare un attivino la situazione allora li potremmo essere un po' più tranquilli nell'andare ma sicuramente facciamolo un po di ping pong tra il tuo monitor e il mio perché qua faccio vedere saipem è chiaro che con una configurazione di questo genere vista la mia esperienza nel seguire diciamo trader pluridecennale diciamo no più di dieci anni sicuramente esclusivamente a seguire trader questa configurazione di mercato guarda caso porta sempre al più grande errore in assoluto è sceso talmente tanto che potrebbero essere delle condizioni di acquisto interessanti fare questo tipo di considerazioni ma qui ma se se chiaramente allunghiamo il grafico di saipem chiaramente lo vediamo da quando questo tipo di movimento di mercato diciamo da quando questo tipo di ragionamento poteva prendere nella testa delle persone io comunque ci parlo con i trader quindi lo so di per certo ecco che fare questo tipo di ragionamento guardando soltanto il grafico e non guardando la posizione degli short istituzionali su questo titolo chiaramente vi porta in un bagno di sangue perché è palese che gli istituzionali se continuano ad incrementare i short sui saipem è perché reputano il titolo non consistente per quanto riguarda una posizione long nonostante il petrolio come dicevi tu sia sopra i 100 dollari al barile quindi fondamentale questo vai riprendi tu e vediamo gli altri titoli dici molto correttamente perché ok allora riprendo qui ok dici benissimo perché quando dicevo prima di quella quella necessità di avere qualcosa in più di oggettivo ok è proprio questo cioè come vedete qui vi abbiamo dato anche queste tre queste tre fasce per per semplificare la situazione cioè sopra appunto l'1 per cento di short il titolo entra definiamolo così in tona gialla quindi va cominciato a monitorare perché soprattutto se ci fossero ulteriori incrementi la situazione diventa critica maggiore del 2 per cento significa la situazione diventa ancora più pesante quindi prima di schiacciare il tasto buy devo pensarci molto molto attentamente sopra 4 per cento per quanto mi riguarda il titolo diventa completamente off limits per schiacciare il tasto buy cioè se non ho ancora posizione aperta e vedo che un titolo è sopra il 4 per cento neanche se mi dà la configurazione più bella del mondo io vado e schiaccio buy ok perché ad esempio prendiamo il caso di Saipem e mettetevi in quella settimana in cui si spara quel bel candelone che va sopra l'1 e 20 per forza lì diciamo così quando si vede il book bello verde addirittura immagino con alcune sospensioni perché per vedere quel candelone sicuramente ci saranno state ecco quando c'è quel tipo di configurazione l'emotività poi diventa grande soprattutto per chi non ha molta esperienza diciamo così la la l'attrazione a schiacciare il tasto buy diventa forte per alcuni irresistibile ecco avere un elemento oggettivo che ti dice no zona rossa qualsiasi cosa tu vedi sullo schermo quella roba lì il long non si va ecco ci aiuta a evitare in alcune ad entrare in alcune situazioni veramente complicate sono interessato su mer technimont hai anche il grafico prezzi short di mer technimont si quello ce l'ho magari poi quando fai vedere i tuoi recapiti o cosa varia te lo te lo recupero e ti faccio vedere il grafico prezzi short è andato a prendere nell'altra cartella quindi non vorrei interrompere la condivisione magari ci perdiamo però ce l'abbiamo ce l'abbiamo c'è anche quello quindi quella anche quella situazione interessante come vi abbiamo sempre detto come vedete qui a sinistra quando abbiamo almeno tre fondi da più di tre fondi ma anche tre mi permetto di dire la situazione va controllata a maggior ragione perché vedete che rispetto a una settimana fa la posizione degli short è incrementata giuno 0 52 quindi abbastanza importante quindi anche in questo caso mi permetto di dire meglio starne fuori l'unica cosa che magari potrebbe giocare a suo favore che qualche fondo istituzionale nel frattempo magari qualche settimana fa si fosse diciamo così nascosto o semplicemente avesse portato la posizione short sotto lo 0 5 e quindi quando noi quella vediamo risalire dopo qualche settimana quella viene catalogata come una nuova posizione quindi magari questo 0 52 non è così pesante ma in ogni caso essendo sul 3 per cento io guarderei altro poi abbiamo ancora buzzi unici ma anche questa sorprendentemente direi shortata visto che appunto magari siamo in una fase un po così di ricostruzione eh siamo comunque a 2 95 la posizione leggermente ritoccata bion che come ci siamo sempre detto fa vita a sé che non è manco più praticamente quotato e poi infine fincantieri che comunque sia a un 2 22 per cento di short con tre fondi comunque che la sciolcano quindi anche in questo caso è qualcosa da cui io cercherai di star fuori guarda fabio su questi titoli c'è buzzi eh unicem e leonardo che avevamo trattato eh tempo addietro che presentano delle similitudini perché su leonardo eh avevamo delle configurazioni rialziste ma eh che eh erano accompagnate da incremento di short importanti sì e abbiamo visto poi chiaramente complice la guerra e quindi complice chiaramente l'impatto su un settore eh a lei dedicato eh il titolo è salito ma è salito quando è salito quando sono stati chiusi di short esatto e anche buzzi unicem dove si parla tanto di ricostruzione si parla anche di un possibile coinvolgimento anche per la ricostruzione che so dell'Ucraina no successivamente al termine della guerra speriamo anche lì facciamo molta attenzione perché fino a quando gli istituzionali prenderanno posizione short su buzzi bisogna andarci molto cauti esatto esatto sì perché se rischiamo di vedere delle configurazioni rialziste ma che poi vengono appunto eh rimandate a ribasso nel giro di poco tempo quindi molta attenzione aspettiamo veramente di vedere sicuramente questo zero zero cinque va letto come zero ok ma anche se vedessi uno zero uno zero due due 95 per poter avere poi veramente una spinta rialzista che venga confermata mi sento di dire dobbiamo vederlo anche in questo caso arrivare a uno ok a uno possiamo cominciare a essere un pochettino più tranquilli anche lì magari non metterei tutto subito cominciamo diciamo così a scalettare la posizione a quanto magari arriva uno e graficamente ovviamente abbiamo la conferma rialzista cominciamo a mettere magari il primo side se vediamo che nelle settimane non ci sono incrementi ma magari riduzioni graficamente si cominciano a vedere quelle shadow a riba scusa quelle con le shadow basse che però poi fa diventare la configurazione rialzista allora lì siamo anche noi che pian piano accompagniamo il titolo a rialzo ecco è un'altra delucidazione importante sono su questi tre semafori che tu hai messo che sono molto importanti perché vi danno un po' l'idea perché sul semaforo giallo maggiore dell'1 per cento ma sotto il 2 per cento è diciamo un livello che può essere anche considerato fisiologico per alcune posizioni che vengono prese su alcuni titoli che possono essere soltanto magari fisiologiche di una tecnica long short su uno stesso settore no esatto ma non vuol dire che il fondo istituzionale abbia una visione specificamente ribassista su quel titolo magari lo vede meno forte rispetto ad un altro e quindi prende le posizioni in short mentre ovviamente più ci avviciniamo al colore arancione e soprattutto quello rosso come il caso di saipem invece lì abbiamo proprio l'idea e il polso della situazione che è proprio molto 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 ribassista ecco quindi importante anche quei tre semafori che hai messo esatto esatto come dicevamo tutto per dare maggiore oggettività possibile al nostro trading bene a questo punto direi che possiamo proprio passare a vedere qual è ad entrare nell'argomento nel vivo del nostro webinar perché quello che ci chiediamo è quanto l'andamento degli short può influire sul fatto che un supporto tenga ok e questo implicitamente significa anche quanto gli short possono identificare un target ribassista o rialzista perché quello che succede che sento dire spesso è dire ok magari la produzione short era appunto non so a 2 3 per cento nel frattempo scende siccome sta arrivando vicino ad un supporto lì finirà tutto ecco lì finirà tutto va vista la situazione ok perché bisogna controllare veramente cosa succede a livello di short e soprattutto ad esempio qui abbiamo preso il caso di esprinet non importa quanto magari un un supporto possa essere importante a livello grafico se non viene accompagnato da delle riduzioni di short è molto probabile che quello supporto non regga infatti vediamo un attimino cosa è successo su esprinet a sinistra vedete il grafico settimanale dei prezzi a destra vedete invece il grafico prezzi short ricordiamo a tutti che il grafico prezzi short semplicemente ci fa vedere con questa linea azzurra l'andamento dei prezzi e ogni pallino è praticamente il venerdì e noi in quel venerdì andiamo a segnare quant'è il totale degli short sul titolo quindi qualcosa di volutamente molto semplice perché ci deve dire solo quello come sono andati i prezzi come sono andati gli short ogni altra informazione non farebbe altro che aumentare diciamo così la confusione mentale quindi poche cose ok e quindi vediamo un attimino se noi ci fossimo trovati ad esempio in una situazione di esprinet in cui magari vedevamo il grafico quando eravamo qui o anche qui beh direi che questo supporto ovviamente è il primo elemento che andiamo a cercare di trovare oppure non so c'è anche questo anche diciamo così questa faccia questo supporto e questo supporto è sicuramente qualcosa che diciamo così vedendo graficamente il titolo saremmo tentati di dire ok secondo me se io già parto da una visione positiva del titolo è lì che il movimento si ferma bene a questo punto vediamo un attimino se l'andamento degli short ci poteva dare indicazione su quello che su quella che era la possibilità di quei supporti di reggere e quindi appunto con questo cerchio ho voluto farvi vedere un attimino la situazione degli short quindi questa questo grafico ci riporta a quello che è successo a livello di short in queste settimane bene andiamo un attimino a vederle quindi i titoli arrivano in questo arrivano a picchiare per la prima volta sul supporto appunto in questa zona 11 43 erano partiti con un 1 79 per cento di short man mano che si avvicinano al supporto come vedete diminuiscono fino ad arrivare ad un 1 46 mettiamoci in questa situazione quindi supponiamo di farla di far l'analisi partendo da questa settimana e vedendo il prezzo che sale in queste settimane bene cosa facciamo andiamo a vedere come si evolvono gli short ebbene vedete che addirittura qui passiamo da un 1 46 ad un 1 54 1 52 quindi questo cosa significa che nonostante il prezzo sia arrivato sui supporti nonostante il prezzo stia cominciando a ribassare gli istituzionali non stanno abbassando gli short questo cosa ci porta a dire che molto probabilmente la discesa non è finita e quindi quello non è un target ribassista cosa accade nelle settimane successive il titolo ritesta il supporto il supporto sembra tenere tanto è vero che poi il titolo rimbalza finché siamo qui magari potremmo vagamente pensare che qualcosa stia migliorando ma vedete che questa illusione dura solamente un paio di settimane perché guardate cosa succede dopo gli short aumentano e di tanto quindi passiamo da un 1 42 a un 2 e mezzo bene questa è proprio la settimana in cui quando io vedo questo incremento se per caso avevo posizioni long lì sopra o delle vellità per voler entrare devo scappare a gambe elevate perché è un incremento di un 1% fatto in questa configurazione col titolo che fa finta di rimbalzare sul supporto lì qualcosa di sicuro non torna quando succede il titolo poi continua a scendere il 3 per cento di short qui comincia questa fase laterale ma vedete che poi praticamente gli short non scendono mai sotto l'uno e l'uno 8 per cento addirittura quindi facciamo questo tipo di confronto quando arriviamo a ritestare questo livello ci arriviamo con un un 87 per cento di short che rimane comunque superiore a questo 1 42 e oltretutto se siamo arrivati a questo punto è perché questo tentativo rialzista è fallito quindi graficamente qui di sicuro io di configurazioni rialziste non ne vedo quindi configurazioni rialziste in questa zona non ne vedo ritesto il supporto con degli short in incremento rispetto a quando li ho ritestati l'ultima volta lì la possibilità che quel supporto rega è praticamente molto vicino allo zero e quindi cosa succede poi effettivamente il supporto non regge quello non diventa un target ribassista e quindi diventa veramente non si sa di chi può perché vedete che il titolo passa dagli 11 43 arriviamo tranquillamente ad un 9 direi praticamente 9 41 addirittura vicino ai 9 vediamo cosa succede poi ancora gli short vengono diminuiti quando noi arriviamo in questa fase ribassista vedete che tutta questa parte viene fatta senza riduzioni di short che arriviamo un 84 veramente molto poco qui però qualcosina si comincia a vedere quindi vediamo un decremento di short che già è abbastanza interessante passiamo da un 1 84 a un 1 26 e ancora qui abbiamo comunque questa fase di discesa ma sempre un 1 26 quindi cosa possiamo dire su espernet per per fare un riassunto abbiamo dimostrato come se gli short non vengono diminuiti fortemente o addirittura incrementano supporti soprattutto su titoli così è molto difficile che reggano abbiamo detto che adesso siamo già dei livelli un po più bassi abbiamo detto appunto che è uno delle prime conferme che vogliamo vedere cioè vedere gli short che scendano magari che vadano sotto quella zona di zona gialla che abbiamo detto prima quindi quella zona dell'uno per cento quando io graficamente comincio a vedere questa cosa vedete due candele settimanali che cercano di bucare i minimi e non ci riescono queste belle shadow nella parte bassa che ci danno quella quel pochino di spinta in più perfetto se dovessi vedere queste configurazioni confermate gli short che non incrementano e che magari addirittura diminuiscono beh qui qualcosina ci si può cominciare a può cominciare a cambiare la nostra view sul titolo e magari cominciare a mettere qualcosa poi ovviamente in base a quanto voglio rischiare posso diciamo così fidarmi un attimino di più dell'analisi grafica e sperare che l'analisi degli short mi venga dietro nelle settimane successive oppure se voglio stare un po' più tranquillo aspetto che le due vengano a diciamo così alla pari però appunto questo ragionamento possiamo farlo perché il totale degli short ad oggi è 1,26 se io qua avesse avuto anziché un 1,26 un 2,26 a me di quello che succedeva graficamente non interessava più niente ok perché comunque avevo un'ottica ribassista allora io non ti sento forse sei mutato sì 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 ok allora dicevo questo potrebbe essere un bel supporto se accompagnato per esempio nei prossimi giorni non ha un'ulteriore riduzione del degli short no esatto il titolo dovesse andare sotto l'1% questo già confermerebbe ulteriormente quello che sta avvenendo e quindi potrebbe essere un'indicazione interessante ecco magari io me lo segno e proviamo a controllarlo nei prossimi giorni esattamente esattamente anche perché le due grandi settimanali cominciano a essere carine se dovessero andarsi dietro andare dietro le due tipi di informazione qualcosa di carino potrebbe succedere anche perché se non ricordo male esprimente aveva staccato anche il dividendo nelle nelle scorse settimane quindi a maggior ragione questo ribasso potrebbe essere dovuto a quello quindi magari lo stacco del dividendo è stato fatto graficamente ci ha dato diciamo così il il ribasso generato dallo stacco del dividendo viene comprato e questo a sua volta ci dà quell'indicazione un attimino più positiva se anche a livello di short riusciamo ad avere conferma dell'informazione beh qualcosa di interessante potrebbe cominciare a vedersi questa è la candela di questa settimana che si sta configurando inside rispetto a quest'altra quindi probabilmente teniamo sott'occhio esprimimento per i prossimi giorni vai esattamente vai riprendo la configlia lo screen sharing faccia fare un po di ping pong così a me lo vediamo i titoli va benissimo giusto me lo vediamo anche graficamente uniamo le due cose altro titolo su cui c'è stata una forte discesa e in cui diciamo così la definizione è sceso troppo lo compro sono sprecate nel corso degli degli ultimi mesi e parliamo di data logic situazione direi simile per quanto riguarda la forza dalla discesa a livello di short invece vediamo che il tutto già un pochettino interpretato in modo un po diverso anche qui il titolo che va a valori altissimi attorno addirittura arrivando addirittura a toccare i 22 euro poco dopo l'inizio del 2021 e da lì in poi comincia una discesa che sembra veramente infinita per chi avesse avuto la sfortuna di trovarsi a prezzi insomma va allargato bene diciamo così il cerchio di chi se non ha chiuso se non ha preso lo stop è incastrato molto ma molto più in alto e appunto vediamo una discesa molto forte supporti che anche qui quando noi cominciamo a vedere la discesa è molto interessante vedere quali sono i possibili supporti che si potevano vedere ovviamente questo era il primo ma anche questo poteva essere un altro supporto vedete che da qui il titolo comincia a fare il rimbalzino ma già dalla settimana successiva ci fa capire che qua lì non c'è tripopergati tanto si rimangia tutto e va a chiudere addirittura sotto l'apertura di quella settimana per non parlare di cosa fa la settimana successiva in cui va a rompere addirittura i minimi vedete che appunto questo poi diventa una resistenza quindi graficamente non ci dava o meglio c'erano alcuni possibili supporti che sono stati negati bene vediamo un attimino lato short cosa potevamo dire e appunto andiamo come sempre a mettere diciamo così la lente di ingrandimento praticamente da qui in poi ed è questo che vediamo all'interno del grafico prezzo short quindi supponiamo di essere all'incirca in queste settimane e di diciamo così fare l'analisi quindi avevamo titolo che scendeva primo supporto è raggiunto un totale di short che non era poi così grande perché appunto parliamo di uno 05 e appunto 05 siamo sotto quella zona gialla quindi lo traduciamo come una situazione assolutamente normale cioè non può essere quello 05 che muove il titolo il titolo l'unica considerazione che si può fare è che se il titolo è molto capitalizzato e poco liquido nel corso di quel periodo quello 05 qualcosina può aiutare a spostare il titolo però diciamo così quello che possiamo dire è che l'analisi degli short in questo caso non può darci manforte per definire che un supporto tenga oppure no ok quindi noi non possiamo arrivare in queste settimane e dire ok il data logica ottimi fondamentali supponiamo graficamente ha dato fortissimi segnali di forza negli scorsi mesi siamo arrivati sul primo supporto eh la totale degli short è 05 quindi non è troppo shortato secondo me regge ecco questa cosa non può funzionare è una è un ragionamento che dobbiamo scartare perché perché non arriviamo da una situazione in cui data logica era shortato al 3 4 per cento e tutta questa discesa stata fatta magari di con riduzione degli short e magari lì qualcosa in più si poteva dire arrivando dalla situazione in cui come vedete lo short è sempre lo 05 lo 05 è veramente una cosa possiamo definire fisiologica quindi a quel punto non è più l'analisi degli short che ci fa decidere se un supporto cioè o meglio diventa più decisiva per il mantenimento di un supporto ok è l'analisi grafica quindi impariamo sia a capire quanto un tipo di analisi è forte come l'analisi degli short ma non risolve tutte le questioni capirne anche i limiti dove invece dobbiamo più porre l'attenzione su altre situazioni ci permette di sbagliare di meno ok quindi capiamo sia punti di forza ma sia anche quando è meglio concentrarsi su altro perché appunto non è sacro grado che ci risolve che ci risolve tutto altrimenti poi rischiamo di prendere delle belle cantonate e vedete che qui la cantonata era veramente grossa perché il primo supporto era appunto qua in area 17 e mezzo ed eravamo ricordiamoci eh supponiamo che uno sia entrato long in questa situazione eravamo a novembre 2021 a 17 e mezzo il titolo ora batte attorno ai 9 euro ok quindi siamo quasi al 50 per cento se uno fosse entrato qua senza prendere lo stop adesso si vedrebbe un quasi meno 50 per cento nel conto trading quindi situazione molto particolare vediamo poi cosa è successo a livello di short nelle settimane successive titolo che continua a dare a fondi ribassisti short che rimangono stabili quindi traduzione di tutto questo è il titolo sta fondando per livelli grafici e perché magari ci sono presi di profitto sicuramente qui la discesa non è dovuta dai fondi istituzionali che stanno incrementando costantemente la posizione short perché i short rimangono stabili quindi è solo l'analisi grafica a cui dobbiamo rivolgerci in questo momento vediamo che poi la situazione va avanti qui abbiamo un primo incremento di short vedete da quanto gli short stavano a 05 ok erano da moltissimi mesi che stavano a 05 quegli short vengono incrementati ma per fortuna già qui stiamo a 05 quindi questo cosa ci comporta comporta il fatto che dobbiamo già stare un po' all'occhio questi slide da fatte venerdì questa 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 presentazione preparata venerdì cosa significa questo se voi andate a prendere di data logic e vi dividete un grafico settimanale vedete che no avere un supporto veramente molto importante quindi questa discesa è stata lunghissima abbiamo fatto ampiamente un meno 50 per cento da questi livelli molto di più rispetto ai top abbiamo avuto una prima tentativa di incrementare gli short che però qui già sparisce ebbene io lì se non vedo ulteriori incrementi di short ma comincio a vedere graficamente che la situazione diventa interessante e appunto se non ricordo male graficamente si vedeva che area 8 79 era buona lì qualcosina secondo me si può cominciare a mettere perché appunto vige un po' più l'analisi grafica e guardate i grafici settimanali cosa ci dicono ci dicono che praticamente da una due tre quattro settimane lì sotto non si andava ok quindi gli affondi ribassisti venivano rimbalzati sostanzialmente quindi questa zona 8 79 era buona tanto è vero che ieri questo è il grafico di ieri vedete che addirittura fatto un minimo 8 72 partito ribalzino non c'era stata ancora forza per andare fortemente al rialzo ma sinceramente questo è un titolo su cui se non dovessi vedere che torniamo a questi livelli di 1 magari poi ulteriori incrementi io qua qualcosina comincio a mettere metterlo a prima tranche non ci metto tutto perché arriviamo da questa situazione veramente particolare ma se il supporto da lungo arrivo da questa discesa infinita a livelli fondamentali non è cambiato moltissimo magari sul titolo qui qualcosina secondo me ci si può ci può mettere sempre occhio però a come vanno di short se vedo gli incrementi di short lì meglio scappare perfetto non lo condivido perché ho visto che ho visto anche la parte relativa a ieri quindi va benissimo così a questo punto andiamo a vederci un'altra situazione che è quello del target al rialzo cioè ci chiediamo che fino adesso abbiamo visto solo situazioni ribassiste ma vediamo se a livello rialzista il fatto ad esempio che degli short vengano chiusi può garantirci il fatto che il titolo poi parta al rialzo e a questo punto vediamo il grafico scusate di nexi ok allora il grafico di nexi come vi ho detto qui arriviamo alla situazione in cui gli short stanno sotto l'uno per cento quindi quel livello praticamente fisiologico per chi non sa interpretare bene l'analisi degli short il fatto di dire ok qua è passato da 0 7 a 0 mi dà il via libera per l'iprotteria rialzo bene come già detto prima se fossimo arrivati da una situazione in cui magari nexi era shortata a 4 per cento tutta questa fase di salita o se è stata fatta con riduzione di short magari qualche possibilità in più in cera ecco io tendo a non andare mai in break dei in breakout dai massimi però qualche possibilità in più magari potevamo averla arrivando dai valori di short invece così definiamoli standard e fisiologici il fatto che vengano chiusi non ci garantisce il fatto che da lì in poi ci sia un ulteriore spinta rialzista come abbiamo detto se stanno sotto quello in un per cento a comandare è quasi più l'analisi grafica e vediamo un attimino cosa è successo all'analisi grafica quindi questo cerchio io ve l'ho riportato qui a livello di sempre candele settimanali vedete che inizialmente la salita va via che è una meraviglia qui break dei massimi che diciamo così non viene confermato qui si tenta ancora di breccare ci si ferma qui cominciano a funzionare i breakout dei minimi qui qualcosa sta già cominciando a cambiare infatti vedete che poi tutte queste settimane il rialzo non è poi così deciso qui addirittura si breccano ulteriormente questi minimi e il titolo poi parte al ribasso quindi questo cosa ci porta a dire che se gli short rimangono sotto quegli un per cento è più importante l'analisi grafica magari non si poteva capire qui che la discesa era finita scusate che la salita era finita ma qui certamente bisognava capire che qualcosa non stava più andando come era prima quindi a questo punto ci spostiamo più sull'analisi grafica l'analisi grafica comanda beh se vedete se unite questa candela a questo ribasso e la unite a questa candela confermata da questo ribasso per vedere forza di artista per volere entrare long serve proprio tanta fantasia diciamo ecco quindi lì è più l'analisi grafica quindi anche in questo caso mi piace farvi vedere dove è meglio guardare altrove nel caso in cui noi uniamo analisi grafica analisi degli short punto capire bene le potenzialità di un tipo di analisi permette di usarla bene fondamentale e ricordiamo sempre quei tre semafori sono fondamentali quindi vi danno la percezione di cosa pesare più uno rispetto all'altro esatto ultima questione che poi abbiamo ancora un altro titolo però la qui è un'altra questione che mi interessa farvi vedere cioè quello che ho notato in questi anni è che in realtà più il titolo è liquido e per liquido intendo che scambia molto durante il giorno e più diciamo così il titolo è anche molto capitalizzato e più ovviamente è difficile per gli istituzionali muovere il titolo anche stando sotto lo 05 ok questo cosa comporta anche comporta anche che quel quei supporti ribassisti o rialzisti riescono a resistere o meno anche in base a questo tipo di fattore e mi spiego meglio cioè se il titolo è magari molto capitalizzato e poco liquido ok quindi scambia poco durante il giorno vi ricordate quella regola che c'è sotto lo 05 le posizioni short vanno comunicate sopra lo 0,5% del capitale sociale se il capitale sociale è alto lo 0,5 diventa impegnativo ok quindi andare sopra servono molti soldi ma se il titolo in realtà scambia poco io magari anche stando sotto lo 0,5% se ho uno o più fondi che lo shortano stando sotto lo 0,5% riescono diciamo così a non venire a galla ma allo stesso tempo a muovere un po di più il titolo anche senza appunto farsi vedere quindi questo cosa vuol dire che magari quando il titolo arriva su un supporto su una resistenza riescono a diciamo così a bucare quel supporto quella resistenza in modo più facile poi magari la direzione viene molto viene corretta ma più il titolo appunto muove meno soldi durante un giorno è più facile fare questo tipo di giochini quindi noi come ci dobbiamo proteggere in questo caso purtroppo allargando gli stop quindi se a noi invece questa situazione non piace ovviamente è meglio è meglio lavorare su titoli che sono magari sia più capitalizzati ma si anche muovono più soldi durante una giornata hanno più controvalore perché se hanno più controvalore significa anche più difficile fare questo tipo di giochini ok e quindi questo cosa ho visto ho visto che influisce proprio su questo tipo di ragionamento e anche su quanto diciamo così la riduzione poi alla chiusura degli short poi viene confermata a livello diciamo così realtisti e qui vi porto alcuni esempi in particolare vi porto l'esempio di A2A che ha avuto una riduzione di short in questa zona era 0,91 arrivata anche ad 1,41 si fa questa fase di ribasso già qui nel ribasso prendono profitto gli shortisti perché passiamo da 1,41 a 0,71 fase di rialzo con conferma di riduzione degli short vedete questo 0,47 e da qui in poi effettivamente abbiamo 0 short aperti e il titolo risale ok altra situazione sul titolo che scambia molto ed è capitalizzato STM anche qui partivamo da uno 0,6 per cento di short quindi fisiologico un po' con la situazione che poteva trarre l'inganno che abbiamo visto prima no vedete qui 0,6 che viene mantenuto qui la posizione finisce sotto lo 0,5 appunto immaginiamo venga chiusa e conferma perché poi il titolo parte a rialzo qui prima vabbè dopo un po' di mesi il titolo riscende però vabbè diciamo che dopo diciamo così la situazione di short vengono chiusi praticamente ad agosto se il titolo a marzo dell'anno dopo comincia a darci conferme ribasso direi che nel frattempo la situazione può anche essere cambiata per altri fattori altra situazione che è quella di Tenaris anche qui avevamo degli short partiti con uno 0,5 qui poi incrementati ma il titolo sale di prezzo gli short vengono ulteriormente ridotti qui guardate la situazione già proprio interessante 0,6 per cento di short riduzione nonostante la discesa dei prezzi short che vengono chiusi e che poi danno e poi rialzo che dà il via libera alla salita quindi questo per cosa dire il semafori e quella quelle aree che abbiamo detto prima valgono sempre quindi sotto l'un per cento è fisiologico però più un titolo è capitalizzato e più scambia e più la riduzione o chiusura degli short diventa un elemento determinante mentre invece più il titolo è il liquido e magari addirittura è anche capitalizzato quindi è facile nascondersi sotto e più quella riduzione di short in realtà rischia di nascondere dei tranelli perfetto ultima situazione che eh anzi scusate un po' ora due slide questa è l'ultima con eh di cui però andiamo a parlare di un titolo di questa sessione in cui di titoli eh ne abbiamo visti molti è un aggiornamento sulla situazione di GWS se vi ricordate ve l'avevo fatta vedere eh l'ultima volta perché era proprio quella classica situazione di titolo molto capitalizzato che scambiava poco in cui short sul file di console non si intedevano ma su piattaforme come Ortex si dice che gli di short stavano facendo festa ok ed effettivamente cos'era successo che il titolo aveva perso moltissimo e c'era situazioni molto strane in cui magari c'era una situazione standard di mattina rialzo e appena scattata a mezzogiorno l'una partiva al ribasso aste di chiusura fatte costantemente al ribasso pezzi sul book che andavano a far battere prezzi che poi facevano il massimo di giornata andavano a toccare la trend line per poi eh far partire il ribasso ecco tutta questa situazione come si sta muovendo anche in queste settimane si vede che gli artisti stanno cercando di tenere al ribasso il titolo si vede appunto da come vi dicevo prima no guardate questi sono gli ultimi giorni vedete guardate questi sono le giornate allora prima giornata seconda giornata terza giornata e quarta giornata guardate il titolo cosa fa guardate che degli scherzetti che fanno titolo che parte a rialzo rialzo la fa di giorno la fa con abbastanza volumi guardate il pomeriggio per abbattere i fretti un po cosa basta per buttarlo giù praticamente scambiato pochissimo ok e addirittura vedete che poi eh questa se non sbaglio è la chiusura guardate come viene fatto al ribasso rispetto all'ultimo prezzo scambiato rispetto diciamo così alla media dei prezzi che sono stati fatti in quel giorno idem con patate nei giorni successivi guardate questa è la chiusura battuta sempre a prezzi bassissimi o addirittura questa è la chiusura di ieri 788 battuta a prezzi bassissimi con anche qui guardate prima pochissimi volumi dicevo però qualcosa sta cominciando a vedersi uno perché vedete a livello settimanale proprio la forza di bassista non si vede più così tanto perché questo a fondo questo a fondo ha fatto una bella shadow settimana scorsa idem tenta di farla a fondo c'è una bella shadow bassa che magari ci dà forza un po più rialzista si cominciano a vedere qualche volume quando cercano di fare il ribasso poi vedete qui arrivano i volumi a cercare di salvare la baracca e di rimandare di invertire il trend ok quindi ancora non possiamo sicuramente cantare vittoria qualcosa sta cambiando va anche lì sempre però visto un attimino su altre piattaforme se è la situazione varia oppure no quello che vi posso dire è che anche per chi non ha accesso a quelle piattaforme quando ci sono situazioni così particolari potete immaginarvi che nelle giornate in cui il titolo scende gli short non vengono incrementati appena vedete la prima giornata in cui il titolo sale vedete che gli short incrementano perché cercano di tenerlo giù a questo punto diciamo così la battaglia è aperta e diciamo così il tempo ci dirà chi l'avrà vinta sicuramente qualcosina di carino si comincia a vedere ma il titolo è molto speculativo nel senso che si muove con poco gli shortisti ci sono quindi a quel punto vige l'analisi grafica ultimo elemento che mi permetto di farvi notare questo facciamo un attimino riassunto quindi se l'obiettivo è prevedere con largo anticipo un target sicuramente la primo è il primo strumento che dobbiamo usare per fare questo tipo di previsione è l'analisi grafica ok quindi ci mettiamo un bel grafico settimanale o magari mensile vediamo quali sono stati i livelli che sono stati rotti o che hanno garantito di fare da supporto e lì andiamo poi a monitorare cosa succede graficamente come si è voluto come si è voluto l'andamento degli short prima che il titolo arrivasse lì e come si evolve quando il titolo diciamo così gioca con i prezzi in quella in quella area se invece vogliamo verificare appunto che un supporto tenga allora a questo punto le due si uniscono le due tipi di analisi si uniscono e allora cosa guardiamo che l'analisi grafica ci dica che non ci sono a fondo i ribassisti quindi quello è shadow magari sul livello settimanale che abbiamo visto prima e a livello di analisi di short vediamo che non ci siano vogliamo vedere delle riduzioni significative quindi come vi dicevo arriviamo magari da short molto alti pian piano si riducono importante come ci siamo detti il rapporto tra capitalizzazione e con e controvolumi più diciamo così il titolo si riesce a spostare con pochi soldi e più può fare questi schertetti queste shadow molte pronunciate quindi se noi vogliamo entrare lì consideriamo che gli stop devono essere molto larghi quindi più si allarga lo stop più il titolo è rischioso più la side si abbassa o se io voglio lavorare in modo un po più tranquillo sicuramente è meglio che mi giro dall'altra parte vado a cercare situazioni più tranquille ultima cosa occhio alla situazione dei mercati perché noi possiamo stare qui a fare tutti i ragionamenti tu guardare tutti i supporti tutte le resistenze fare tutti i tipi di analisi ok ma se ieri ma se il mercato è negativo ok soprattutto diciamocelo quello americano che sposta tutto possibilità che supporti tengano sono molto difficili perché se ieri la fede avesse detto che alzava i tassi di interesse dell'uno per cento anziché 0,5 qualsiasi tipo di analisi saltava completamente ok quindi in linea cioè in ordine di importanza guardiamo sempre come si muovono i mercati in quel momento e tradotto come stanno andando i mercati americani in quel momento come sono gli short sul nostro indice se sono pochi allora vuol dire che possiamo siamo più liberi di seguire l'andamento di tutti gli altri mercati andiamo a vedere come il nostro indice e in base a quello che ci siamo detti oggi vediamo come mixare analisi grafica e analisi degli short perfetto allora in conclusione vi faccio vedere di nuovo i recapiti e vi ricordo che se volete diventare clienti WeBank potete contattarmi direttamente al 347 28 03 056 o tramite email ad ala vincenzo punto gendusa chioccia da promotori punto banco bpm punto it qui sotto trovate il codice promotore pf 52 118 che come spiegato all'inizio del webinar è un codice fondamentale da inserire nella richiesta di apertura conto su WeBank punto it per ottenere i due vantaggi esclusivi l'assistenza diretta è gratuita nel trading team di WeBank un servizio di eccellenza fondamentale se fate trading è un delle condizioni privilegiate soprattutto all'inizio del vostro rapporto con la banca per qualsiasi dettaglio contattatemi Fabio io ti ringrazio come sempre e ci vediamo al prossimo appuntamento con l'analisi degli short istituzionali grazie Alan e grazie a chi ci ha seguito alla prossima grazie a chi ci ha seguito alla prossima